Salve a tutti amici di Campania nel pallone, siamo alla vigilia di Napoli-Juventus, gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona, il fischio d'inizio alle ore 18. Gli azzurri, dopo le due sconfitte consecutive contro Genoa ed Atalanta, si apprestano ad affrontare una partita di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione. Napoli ora ha obbligato a cambiare rotta per evitare di compromettere definitivamente la propria annata e per continuare a sperare in quella qualificazione alla Champions League che è di vitale importanza per il futuro del club. Sono due le strade percorribili per il raggiungimento del principale obiettivo stagionale e le due gare di campionato contro Juventus ed Atalanta insieme alla doppia sfida dei sedicesimi di finale con il Granada saranno un crocevia fondamentale sotto questo aspetto, un crocevia inoltre al quale è legato il destino di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra perché sappiamo che nel calcio da sempre in situazioni del genere, a prescindere da chi sono i maggiori colpevoli, il primo a pagare è sempre il tecnico e dunque in vista di domani l'auspicio è che ci sia una reazione di orgoglio da parte della squadra in un match da sempre molto sentito in città e per di più quello di domani sarà il primo Napoli-Juventus dopo l'intitolazione dell'impianto di fuorigrotta a Diego Armando Maradona ma non diffondere ottimismo come ormai di consueto in quest'ultimo periodo sono le tante assenze a cui deve far fronte Gennaro Gattuso che sarà costretto ad una linea difensiva obbligata considerate le assenze di Koulibaly, di Manolas, di Yusai e Goulam ed un'altra grave tegola è certamente l'indisponibilità di Diego Demme il centrocampista tedesco ha rimediato un infortunio alla coscia per il quale dovrà restare fuori almeno una settimana e certamente la sua presenza in una gara come quella di domani poteva essere molto utile considerate le sue ottime doti in contenimento e nel comunque dare equilibrio e sostanza al centrocampo. Di fronte ci sarà una Juventus che certamente sta attraversando il suo miglior periodo stagionale dal punto di vista dei risultati. I bianconeri sono terzi in classifica con cinque punti di vantaggio sul Napoli che ricordiamo è sesto a pari punti con l'Atalanta a quota 37 e la svolta per gli uomini di Pirlo è stata proprio la vittoria nella Supercoppa italiana dello scorso 20 gennaio mentre purtroppo per gli azzurri è stata una svolta in negativo la sconfitta. E riguardo all'11 titolare con cui il Napoli scenderà in campo i dubbi sono pochi a causa soprattutto di quelle che sono le tante assenze. Tra i pali confermato Spina davanti all'estremo difensore colombiano ripeto quartetto di difesa obbligato composto da Di Lorenzo con Mario Rui sulla corsia opposta sulle fasce e al centro dall'inedita coppia Maximovic-Raccomani che sino a questo momento abbiamo visto soltanto nella gara del Gewiss Stadium contro l'Atalanta dello scorso mercoledì. A centrocampo con ogni probabilità sarà confermato il terzetto con Elmas e Zielinski-Mezali e Bakayoko vertice basso. Fabian partirà nuovamente dalla panchina perché non è ancora al top dopo il lungo periodo di stop causa positività al Covid-19 mentre nel tridente offensivo sono certi di un posto da titolare sugli esterni Lozzano sull'out di destra offensivo ed Insigne su quello di sinistra mentre per il ruolo di prima punta è ballottaggio tra Osime e Neppetagna con il centravanti nigeriano che parte in leggero vantaggio sull'attaccante ex Spal. E dunque detto questo è tutto auguro a tutti un buon proseguimento di serata dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel pallone.